Duffy Duck Non ci sono solo fantasmi, ci sono anche alieni, vampiri, zombie Le strade non sono più sicure, bisogna fare qualcosa per scominarli Ma sì, sì, ma perché hai scelto me? È una responsabilità che ti devi prendere, non puoi tirarti indietro Pensai che brutta figura faresti davanti alla nazione in difesa Eh, ma sì, lo so, ma io stavo partendo per una vacanza Hai detto vacanza, Bunny? Noi abbiamo delle grandi opportunità per viaggiare Palm Springs? Eh, non è proprio Palm Springs Hai presente il triangolo delle Bermude? Vedremo cosa si potrà fare Si è rilassato abbastanza e ora è il trattamento vero e proprio Comincerò dalle prove di forza Voglio proprio vedere qual è la sua reazione Allora lavorerai per me? Ma certo, chiamami quando vuoi, sai dove trovarmi Devo dirti una cosa, non hai mai avuto un aspetto così bello Grazie a tutti